Direttore Vernacotola sul cammino della Sente Gidiese, un altro ostacolo, il prossimo turno il derby con l'Atletico Lembio? Sì, ovviamente è una delle partite di cartello, oltre al derby di oggi, di domani, penso ci sia un'altra partita di cartello tra la quotata rosetana e il Cellino, il Cellino ospita la rosetana. Che dire, obiettivamente non abbiamo riferimenti storici sul derby, perché credo, da quanto mi hanno detto a Sant'Egidio, è la prima volta che si gioca questo derby. Speriamo sia l'insegna della correttezza, ma non dubito di questo, e soprattutto che venga giocato sicuramente con grande piglio agonistico, ma nello stesso tempo, tenendo conto che deve essere una giornata positiva di sport, anche perché, da quello che mi riferivano proprio stamattina, in una riunione che facevamo con la società, da parte di tutte e due le contendenti, sia Sant'Egidio che il Villale, l'Atletico Villalempa, c'è anche una vicinanza dei tifosi che spesso condividono passioni sportive, anche andando a visitare altri campi di categorie superiori. Quindi mi auspico che sia una giornata positiva per lo sport e poi soprattutto, diciamo, è una buona cosa, vedendo un attimino come va. Poi il derby è il derby. Sul piano della formazione come arriva la nuova Santa a questo derby? Sul piano della formazione so che il mister Fabrisi in settimana ha lavorato parecchio unitamente allo staff tecnico per cercare di recuperare alcuni calciatori. Ovviamente, siccome sono reduci da qualche due settimane abbondanti di stop, se riusciamo a recuperarli, ma ne dubito, probabilmente si presenteranno forse non proprio al top, però sappiamo insomma di avere, abbiamo dato ampia dimostrazione, sappiamo di avere una buona squadra, una buona rosa, con i ragazzi del settore giovanile che stanno dimostrando quando vengono chiamati all'opera di rispondere pienamente alle attese. Ovviamente incontriamo una formazione che, vedendo i risultati, lo dice la classifica, è una formazione ben quotata. Quindi ci presenteremo a giocare la nostra partita come abbiamo fatto sempre, poi che venga il migliore.